Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento col Meteo. Insistono le perturbazioni atlantiche nel Mediterraneo, lo faranno anche nei prossimi giorni, quantomeno fino al termine di settembre, poi avvio di ottobre, con un probabile rinforzo dell'anticiclone che riporterà un po' di bel tempo da nord a sud. Per quanto riguarda questo martedì, si prospetta una giornata ancora abbastanza nuvolosa, soprattutto nelle aree interne, pochi momenti soleggiati, però anche qualche piovasco possibile, soprattutto a ridosso dei monti, nelle aree più interne, specie sulla Marsica, l'Aquilano settentrionale, anche localmente l'Alto Sangro, qualche schiarita in più, specie al mattino, sui tratti costieri e il primo introterra. Le temperature stazionarie, massime tra 18 e 25 gradi, minime tra 11 e 18 gradi, venti ancora ben disposti dai quadranti sud-occidentali. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni